Una rotonda sul mare, cantava Fred Bongusto, riferito alla rotonda di Senigallia. Invece qui è una rotonda con un mare di automobili. La Mentele, siamo nella zona sotto le mura di Arezzo, ingresso nord, ai parcheggioni, quindi San Clemente. E una delle due segnalazioni è questa, ovviamente la pericolosità di riempire una rotonda di auto da parcheggiare. Che cosa vuol dire? Che ne va della visibilità. E finché siamo in una rotonda di questo tipo, dove bene o male non ci sono strisce pedonali per attraversare, può anche andare bene. Il peggio viene, come da segnalazioni del signore che si fa chiamare Ricciola, quando si rischia la vita dei pedoni. E questa è la rotonda fuori porta San Clemente. Dove sta la pericolosità? Sta nel fatto che le strisce pedonali, vedete, sono subito dopo la rotonda. Per cui chi viene, chi proviene dall'altra strada e vede che da sopra è libero, affronta la rotonda a una velocità tale per cui arriva sulle strisce piombando sui pedoni che eventualmente le attraversano. E così è avvenuto, da qui è derivato questa Lamentele, tanto più che di qua c'è un parco e ci sono degli impianti sportivi per cui gente che viene a fare movimento, gente che si reca in palestra, gente che ne torna, è costretta, vedete, a rischiare. Primo perché non sa, non essendoci visibilità, vedete, la macchina sbuca all'improvviso e le macchine si trovano addosso a questi pedoni. Allora, io non credo che ci voglia un Renzo Piano, basta un geometricio che prende le misure e capisce che le strisce sono troppo vicine alla rotonda e o sposta le strisce oppure smussa questo poggetto che, vedete, i furgoni si vedono, ma le macchine, guarda, ne sta per spuntare una, non si vede. Ecco, si vede la testa di un cristiano, potrebbe sbassare questo poggetto di modo che il pedone può traversare tranquillo. Lamentele dal nostro ascoltatore il ricciolo.